Scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili. Si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro. Probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre. Sono tutti e tre pugliesi, vi possiamo dire i nomi. Uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Poi ci sono due civili, dei quali non siamo in grado di darvi il nome. Ci sono poi dieci feriti. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Aveva percorso con le auto di scorta e la sua blindata condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri quando allo svincolo di Capaci poco prima di un grande complesso industriale è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia, Piero Giammanco, qualcosa come mille chili di tritolo che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un commando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. La croma bianca è praticamente irriconoscibile.